Bianconeri, sulle scelte! E' forte a Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Cagliari. Undicesima giornata di campionato, sabato 3 novembre ore 20 e 30. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni, Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22 Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio 348 80 888 03. Cristian 349 68 000 66. Giuseppe 347 04 17 623. E' sempre forza Juve! Fino alla fine!